Buonasera amici di The Big Channel e benvenuti a questa nuova sezione di Calcio Mercato Oggi staremo qui a parlare del Milan, Milan che sta trattando con i cinesi per l'acquisto dell'80% della società Dove si parla di circa di 500 milioni più 400 milioni da spendere sul mercato Dove Berlusconi non ha voluto specificare i prezzi dell'operazione Per il mercato in entrata Montella vorrebbe Gabbiadini attaccato del Napoli Che però ha un prezzo di 25 milioni e potrebbe arrivare solamente se verrà ceduto Bacca Poi abbiamo assistito a un blitz di Gagliani per PH dove ha cenato con l'agente del giocatore stesso a Zagabria E abbiamo una foto di Gagliani appunto ritratto con l'agente del giocatore Si aspettano conferme dove si dice che PH abbia una notte per pensarci e poi vedere se accettare l'offerta del Milan Al centro campo il Milan aspetta Kovacic ha un interesse su Andre Gomez, giocatore del Valencia E su Borca Valero che sembra però abbastanza difficile da convincere Mentre in difesa cerca di rinforzare Gomosacchio, difensore 26enne del Villareal Con grande esperienza dove sono stati offerti 18 milioni dove la clausola però è di 50 milioni Mentre è pronto un bella nave per Alberoa Mentre per il mercato in uscita troviamo Bacca che vorrebbe andare all'Atletico Madrid Ne ha parlato anche il suo agente, aspettiamo di un'offerta Mentre Kuzka che ha un futuro incerto dove Mianovic lo vuole fortemente al Torino Diogo Lopez mentre è stato contattato dal Chelsea E mercoledì si chiuderà effettuando le visite mediche Per il resto Gagliani sta anche trattando le cessioni di Poli, Menez, Niang E per questo è tutto, arrivederci amici G di The Big Choma